Il settore delle sostanze naturali complesse rappresenta una straordinaria opportunità per l'Europa, per il cittadino europeo, per portare nella cura e nel benessere sostanze che hanno un rapporto rischio-beneficio molto favorevole. L'impianto regolatorio europeo è uno degli impianti più avanzati che possiamo trovare nel mondo. Quello che chiediamo è quello di fare in modo che questo impianto venga implementato in maniera corretta e quindi che vengano sviluppati dei criteri di valutazione basati su criteri scientifici, in particolare quelli della evidence-based medicine e della systems medicine, che consentano di portare in terapia in modo efficace e sicuro queste sostanze naturali complesse. Il limite che vediamo in questo momento è che si tende ad applicare a questa tipologia di prodotto gli stessi criteri di valutazione che vengono utilizzati per le sostanze artificiali, per le sostanze isolate e questo davvero non funziona.